Bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per i prossimi giorni, in particolare in modo osserveremo i primi giorni del 2020. Il nuovo anno si apre col bel tempo con l'alta pressione delle azzorre in rinforzo sul Mediterraneo e quindi alta pressione che spazzerà via le freddi correnti giunte nell'ultimo weekend. L'alta pressione quindi si è espanderà verso l'est, spazzerà via verso l'est Europa le correnti più fredde e porterà quindi al bel tempo anche le nebbie in pianura padana, ma comunque assisteremo ad un lieve aumento termico. Nelle ore centrali il meteo farà decisamente freddo invece di notte e al primo mattino. Nel dettaglio la grafica ci mostra il bel tempo su tutta Italia, cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque, qualche addensamento in più come detto al nord in pianura padana anche sul lato tirrenico dove avremo dalle nubi basse qualche banco di nebbia anche fitto su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra gli 8 e 12 gradi, le minime tra i 5 e i 6 gradi mediamente e localmente avremo valori decisamente più bassi nelle vallate e in pianura padana. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi l'augurio di un sereno 2020.